Ciao a tutti amici, diciamo uno dei vantaggi di invecchiare che si riesce a fare un po' la sintesi di tanti anni, di esperienze varie, è la terza volta che mi trovo a parlare dal palco di un congresso nazionale, la prima volta come segretario provinciale di Pavia abbiamo eletto Giancarlo Giorgetti, la seconda volta come commissario di Crema, sono intervenuto anzi anch'io come già l'amico Mattia Capitanio, voglio salutare gli amici di Crema, anch'io ho vissuto un anno e mezzo molto bello, abbiamo fatto un grande lavoro e anch'io spero che a Crema dopo aver sentito parlare Bresciano e aver sentito prima ancora Parvese ci possa essere finalmente una svolta anche da quelle parti. E poi adesso ancora come segretario provinciale di Pavia, io voglio salutare innanzitutto il tavolo di presidenza, voglio salutare tutti voi, il mio non vuole essere un intervento da strappare gli applausi, tante delle cose che sono state già dette negli interventi di Belotti e di Boni sono assolutamente condivisibili non soltanto da me, dai segretari provinciali che stanno alternando, tutti quelli che interverranno dopo ma credo anche da tutti voi. Io voglio così soltanto lanciare alcuni spunti di riflessione, ho parlato, ho tracciato quelle che sono le linee della mia storia che si legano a quella che è la storia del movimento, il momento storico delle elezioni di Giancarlo Giorgetti, il movimento altrettanto storico di grande svolta dell'elezione al segretario nazionale di Matteo Salvini e oggi che siamo qui per incoronare il nuovo segretario nazionale Paolo Grimoldi che ha già avuto modo in questi mesi di lavoro di far capire di che pasta è fatto e del lavoro che sta impostando, veramente un grande lavoro organizzativo che è fondamentale per poter abbinare a quello che sono i grandi risultati in termini di consenso, a quello che sono i grandi risultati anche dal punto dell'operatività sul territorio, per quello che è la nostra capacità come Lega Nord di essere presenti in quello che è la politica di prossimità sul territorio. Io voglio così ricordare, perché ritengo giusto anche nei confronti non soltanto dei miei militanti, che ringrazio tutti i militanti della provincia di Pavia, come ringrazio il mio straordinario direttivo provinciale, ma voglio ripercorrere un attimo le date anche di quello che sono, promettendo che rimango dentro i tre minuti, ci provo, ripercorrere quello che sono anche in questi anni il contributo che credo la provincia di Pavia ha dato a quello che è l'azione della politica Nord a livello non soltanto nazionale come Lega Lombarda ma anche a livello federale. I risultati che abbiamo fatto alle elezioni regionali sono, credo, sotto gli occhi di tutti, pur soffrendo quello che è un po' il problema della bassa, sicuramente non abbiamo le percentuali che ci sono da altre parti della Padania, ma comunque vediamo che nei risultati delle regionali abbiamo avuto degli ottimi risultati, credo che abbiamo contribuito in maniera importante anche all'elezione di Roberto Maroni, governatore della Lombardia, ricordo anche i risultati alle elezioni europee dove con il nostro candidato abbiamo avuto un straordinario risultato e ci siamo posizionati in termini di preferenze sicuramente ai massimi livelli e poi anche a livello più locale, vedo qui davanti a me gli amici di Vigevano, a cui credo che vada un grande applauso perché nel 2010 hanno vinto una sfida che tutti ritenevano impossibile, si sono ripresentate ancora sotto così gli sguardi scettici di tanti e hanno rivinto, quindi oggi la città di Vigevano, diciamo sotto la segretaria provinciale mia, che non rivendico assolutamente nessun ruolo così da prima donna, ma insieme ai militanti di Vigevano, a tutta la provincia, a tutta la segretaria provinciale di Pavia siamo riusciti ad ottenere un risultato straordinario che ha posizionato la città di Vigevano tra le prime città con amministrazione monocolore, lega in Regione Lombardia. Quindi questo vuole essere così, anche una dimostrazione che al di là di quello che sono i tanti problemi che ci sono in tante famiglie, che poi si cerca tutti insieme di risolvere, sono qui a prendere un impegno, un impegno ben preciso nei confronti di Paolo Grimoldi, a cui rivolgo un grande augurio da parte di tutti noi, ma non soltanto un augurio ma anche un impegno, un impegno da parte della provincia di Pavia ad esserci, sempre, a dare il contributo in qualsiasi momento per fare in modo che quelle che sono le linee politiche tracciate dal nostro grande segretario federale Matteo Salvini possano essere attuate sul territorio e dare quei riscontri importanti e fondamentali, perché nonostante i momenti politici che cambiano, credo che nel cuore mio, come nel cuore di tutti voi l'obiettivo sia sempre quello, una padania libera e indipendente. Padania libera, un saluto a tutti e un in bocca al lupo a Paolo Grimoldi, un saluto a Matteo Salvini e un saluto affettuoso a Umberto Bossi. Padania libera.